Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima lezione inaugurale del corso di programmazione in oggetti e quest'anno verrà erogato in modalità a distanza. Allora, il mio nome è Marco Tocchiano, sono nel Dipartimento di Automatica Informatica, qui trovate i miei riferimenti per potermi contattare. In questo corso sarò coadiuvato da due colleghi, che sono Diego Monti e Simone Leonardi, che si occuperanno principalmente della parte pratica e di laboratorio. A questo punto io sarei partito con gli orari delle lezioni, l'organizzazione, in realtà siamo in questa emergenza per cui cercherò di proporvi una modalità alternativa di interazione che cercheremo di sperimentare assieme cercando di eventualmente aggiustarla in funzione delle esigenze e delle funzionalità. La modalità di lavoro che vi propongo sostanzialmente consiste in tre tempi specifici. Un prima delle lezioni, che voi potete svolgere a casa con i tempi e i modi che preferite. Durante le lezioni ufficiali, quindi secondo l'orario che è già stato definito, quindi lunedì mattina e mercoledì mattina, e poi in altri momenti un po' più strutturati. In questi tre tempi che cosa vi propongo di fare? Sostanzialmente io prima delle lezioni pubblicherò i video con le lezioni, verrà inviata a voi una notifica in modo che voi possiate essere informati immediatamente e quindi guardarvi le lezioni. Durante l'orario ufficiale avremo l'utilizzo della virtual classroom in cui potremo avere un'interazione. L'idea è quella di fare un veloce riepilogo io delle tematiche e delle lezioni che dovreste aver visto precedentemente e poi lasciare spazio a domande e chiarimenti, eventualmente discussione, vi posso proporre dei temi, degli argomenti di discussione, da portare avanti tutti assieme. Ovviamente questo è limitato e quindi ci sarà poi un altro modo di lavorare a richiesta, per cui è ovvio che se lavorando in maniera autonoma avete delle domande, dei dubbi, ci sarà la possibilità di fare delle richieste specifiche, eventualmente risolvere i vostri problemi, eventualmente fare discussioni. Questo ovviamente non potrà avvenire in tempo reale come durante la classroom, ci sarà un ritardo, ma l'idea è di comunque darvi un ulteriore canale e un altro momento per poter avere delle interazioni. Quali strumenti di collaborazione utilizzeremo? Sostanzialmente la virtual classroom del Politecnico, per cui riceverete poi gli inviti di volta in volta quando ci saranno le lezioni e verranno utilizzate anche negli orari di laboratori per potervi dare un supporto online. Ovviamente questa è una modalità collettiva di lavoro, ci sono delle altre modalità utilizzando una piattaforma che si chiama Slack, che permette di avere un supporto, un'interazione continua, specialmente sulla parte pratica di laboratorio. Qui ci sarà la possibilità anche di avere un'interazione individuale, quindi ci saranno chat individuali, oltre a quelle di gruppo. Per questo vi chiedo di registrarvi al Workspace Slack seguendo il link che vedete indicato. Registratevi utilizzando l'email del Politecnico, perché sono quelle abilitate, quelle ufficiali che noi utilizzeremo durante questo corso. Tutto il materiale, quindi queste slide che stiamo vedendo adesso, link, informazioni, riferimenti, video lezioni, eccetera, saranno disponibili su questa pagina. Trovate il link anche sul portale della didattica, tra gli avvisi, quindi non dovete per forza memorizzarlo ora, e qui trovate tutto. Oltre a questa pagina, che vi posso mostrare velocemente, quindi questa è la pagina che voi avete, eccola qua, che voi avete a disposizione, quindi ci sono il titolare, due miei coadiutori, l'orario ufficiale che sostanzialmente per l'orario funziona, per le aule per il momento no, vedremo con l'evolversi della situazione. Quindi abbiamo delle news, quindi tutti i link che vi servono, le lezioni, quindi qua ci sono i pdf, ci saranno anche le video lezioni, la prima comparirà appena finisco di registrare questa, che state ascoltando. informazioni e link per i laboratori, eventuali esercizi che vengono svolti in aula, e poi alcune informazioni sugli esami e infine link utili, software e bibliografia per chi volesse poi approfondire. Oltre a questa pagina web, vi dicevo, c'è un'altra pagina, che è questa, quindi op.polito.it slash doc, in cui ci sono le informazioni generali. Mentre questa pagina è comune a tutti e tre i corsi, anzi quattro, perché ce n'è anche uno in inglese, di programmazione ed oggetti, la pagina precedente che abbiamo visto invece è specifica di questo corso, di cui sono io il titolare. Che cosa c'è in questa pagina su op.polito.it? C'è un link con le informazioni su soft di riferimento, le modalità d'esame che vi invito a leggere dettagliatamente, iniziate a leggere adesso e poi soprattutto alla fine del corso, prima di sostenere l'esame, le modalità per accedere alle esercitazioni di laboratorio, come vengono utilizzati i progetti SVN in Eclipse, quindi sono due strumenti che impareremo a utilizzare, come potete utilizzare un plugin che è utile e come vengono utilizzati i test. Man mano scopriremo durante il nostro corso. L'orario è questo, quindi prima delle lezioni del lunedì e mercoledì riceverete una notifica con delle video lezioni, che quindi siete invitati a guardare prima della lezione in modo da poter poi eventualmente fare domande e ottenere chiarimenti. E poi ci sono i laboratori del venerdì mattina. Questi laboratori erano previsti in aula 3D, che è un'aula attrezzata come i live, però ovviamente per il momento verranno svolti a casa e in ogni caso presumibilmente partiremo a svolgere i laboratori, quindi le attività pratiche, dalla terza settimana, ovvero dal venerdì 27 marzo. Quindi abbiamo tempo per capire come evolve la situazione e per adattarci. Come è organizzato il corso? Ci sono due grossi macro temi, uno riguarda l'ingegneria del software e l'altro il linguaggio di programmazione Java. Ovviamente il primo prevede soltanto dei cenni, non molto di più, mentre invece il secondo è la parte forte di questo insegnamento e porterà via la maggioranza delle ore disponibili. Quando parliamo di ingegneria del software, facciamo un riferimento a quello che è il ciclo di vita del software, quindi dalla ideazione, la progettazione, la codifica, il test e poi la messa in produzione. Ci focalizzeremo ovviamente sul design, perché utilizzando un approccio orientato agli oggetti è importante capire come svolgerlo e quindi quali sono le indicazioni principali, quali sono le tecniche note e riutilizzabili. Parleremo di test, che è un aspetto fondamentale nello sviluppo del software, di configuration management, quindi come possiamo utilizzare diverse versioni e configurazioni dello stesso software e farlo evolvere nel tempo e soprattutto ci focalizzeremo su quello che è il paradigma orientato agli oggetti, che è un paradigma generico e noi lo caleremo nel contesto di uno specifico linguaggio di programmazione, che è Java, per cui impareremo la sintassi Java, che deriva vagamente dalla sintassi del linguaggio C, ma ovviamente ha molte varianti e ci focalizzeremo anche su quelle che sono le librerie standard. Le librerie standard sono una componente importantissima del linguaggio Java che permettono lo sviluppo di software in maniera molto agevole senza dover reinventare spesso molte funzionalità di base, cosa che invece spesso succede con altri linguaggi più di basso livello, come ad esempio il C. Quali sono gli obiettivi di questo corso? Sono sostanzialmente farvi capire come si sviluppa il software, lo sviluppo del software non è soltanto scrivere il codice, ci sono un sacco di altre attività che sono importanti, farvi diventare un po' più familiari con alcuni strumenti comuni per lo sviluppo del software, quindi i sistemi di controllo delle versioni, gli IDE, le piattaforme di test. Conoscere il linguaggio Java, che è un linguaggio estremamente diffuso, molto importante in questo momento, darvi la capacità di scrivere e testare semplici programmi Java. Con i tempi che abbiamo, noi focalizzeremo la nostra attenzione sull'apprendimento del linguaggio, non potremo purtroppo focalizzarci su grandi applicazioni, e utilizzare gli strumenti di sviluppo. Quindi i compilatori, gli ambienti integrati, i framework di test, i sistemi di controllo delle versioni. Quali sono gli strumenti che utilizzeremo? Allora, il linguaggio Java è al centro di buona parte del nostro corso. Utilizzeremo il linguaggio Java all'interno di un ambiente integrato di sviluppo che si chiama Eclipse, che è estremamente diffuso, è uno tra i più diffusi attualmente anche nel contesto industriale. Utilizzeremo una piattaforma per il controllo delle versioni che si chiama Subversion, che non è quella più di moda in questo momento, ma è tuttora largamente utilizzata in contesto industriale. Utilizzeremo un framework per il test che si chiama JUnit, e vedremo alcuni cenni di quello che si chiama lo Unified Modeling Language, che è un linguaggio che serve per andare a modellare e quindi anche a progettare applicazioni, in particolare applicazioni che utilizzano un approccio orientato agli oggetti, che è quello che poi viene realizzato tramite Java. Quindi l'UML è uno strumento di progettazione, progettazione che precede poi la scrittura del codice utilizzando il linguaggio Java. Come organizzato in termini di attività il nostro corso? Abbiamo circa 50 ore di lezione, con le video lezioni e la parte con l'aula virtuale, probabilmente queste proporzioni cambieranno un pochettino, ma giusto per darvi un'idea di quello che è la progettazione iniziale, c'è una piccola parte, quindi una quindicina di ore, relative a software engineering, e la parte maggiore è legata al linguaggio Java. Abbiamo poi degli esercizi in aula, quindi circa una ventina di ore, vari esempi svolti durante le spiegazioni, o durante le video lezioni, oppure durante la parte interattiva nelle classi virtuali, e le soluzioni ovviamente degli esercizi in laboratorio, con la spiegazione, la valutazione delle alternative, e la discussione ovviamente dei vostri dubbi e delle vostre ipotesi di lavoro. E infine ci sono attività di laboratorio, quindi circa una quindicina di ore. Idealmente, se questo corso fosse stato fatto in presenza, ci sarebbero due squadre alternate, una settimana sì, una settimana no, tre ore per ogni settimana, in questo momento stiamo cercando di capire esattamente come farlo. In linea di principio manteniamo questa divisione, ma ovviamente valuteremo prima ovviamente del primo laboratorio, che come vi dicevo prima sarà il 27 di marzo. I laboratori, nella loro organizzazione pratica, sono da definire, dettagliare, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti, e anche con la pratica un po' di esperienza cerchiamo di capire come funzionano meglio. Che cosa dovrete fare nell'attività pratica? E sostanzialmente vi verranno dati degli esercizi, tipicamente dei programmi, lo scheletro di un programma, che voi dovrete completare ed eventualmente modificare. Ed è sostanzialmente lo stesso meccanismo che poi vedrete in atto durante l'esame. Durante l'esame vi verrà dato un programma di partenza, vuoto normalmente, che voi dovrete completare. I laboratori sono valutati, ma non danno punti nella valutazione finale. Valutati nel senso che noi eseguiremo dei test automatici su quanto voi fate e vi comunicheremo il risultato. Quindi servirà come un'autovalutazione. Sono essenziali per l'esame finale. È importantissimo svolgerli, perché sostanzialmente sono un percorso che vi prepara a raggiungere quello che sarà poi la struttura dell'esame finale. Quindi i laboratori primi saranno molto semplici, ma direi che gli ultimi sono sostanzialmente analoghi a quello che vedrete poi in sede d'esame. Attenzione, è necessario che voi siate in grado di utilizzare gli strumenti software, quindi i test, l'eclipse, il linguaggio Java e il subversion, per sostenere l'esame. Se voi non siete in grado di utilizzare questi strumenti, l'esame sarà impossibile da sostenere. quindi attenzione a dedicare anche attenzione e parte del vostro tempo a imparare bene l'utilizzo di questi strumenti. Quali sono i prerequisiti necessari per poter seguire questo corso? Beh, ovviamente la programmazione procedurale, diciamo, utilizzando il linguaggio C, e preferibilmente, quindi questo potrebbe aiutarvi a comprendere meglio alcune cose, che cosa sono i tipi di dato astratto, quindi liste, alberi, grafi e gli algoritmi di base, quindi l'ordinamento, la ricerca, l'inserimento delle liste, la scansione degli array, eccetera. Questa seconda parte, sui tipi di dato astratto e sugli algoritmi, non è strettamente necessaria. Aiuta a comprendere meglio alcuni aspetti, ma non è fondamentale per poter svolgere gli esercizi. Io farò qualche cenno qui e là, per chi conosce già questi argomenti, ma, ripeto, per specifici approfondimenti. A questo proposito, la domanda è conoscete abbastanza il linguaggio C? È necessario ripassarlo, fare qualche piccolo esercizio iniziale? Io vi propongo questo questionario iniziale di autovalutazione che potete svolgere a questo indirizzo per valutare le vostre conoscenze del linguaggio C. Il questionario di autovalutazione non è anonimo, servirà ovviamente a noi per motivi statistici, per capire un attimo come le conoscenze del linguaggio C sono poi legate alle vostre capacità di scrivere linguaggio Java, per cui, quando vi collegherete, vi verrà richiesta un identificatore e per questo utilizzate la vostra matricola senza la S iniziale, quindi semplicemente la parte numerica. Più in generale, durante il corso vi proporrò una serie di questionari di autovalutazione, ve li proporrò prima delle attività pratiche di laboratorio in cui i concetti sono utilizzati e dopo aver visto gli argomenti sia nelle video lezioni che poi durante le classi interattive. Questi questionari di autovalutazione sono sostanzialmente un insieme di domande a risposta chiusa, servono per autovalutarvi, quindi quando avete problemi non sapete esattamente come rispondere, questo è un segnale che probabilmente dovete approfondire alcuni aspetti che poi saranno utili nella parte pratica di programmazione. Sono basati su web, come dicevo prima non sono anonimi, servono a noi per motivi statistici, per capire se ci sono alcune attività, alcuni aspetti del corso che sono più critici di altri su cui magari insistere di più e cercare di approfondire e chiarire meglio. i risultati non sono utilizzati per la valutazione quindi per il voto finale. Servono, ripeto, a voi come autovalutazione e a noi per capire se ci sono aspetti più critici dove tante persone magari hanno difficoltà. Qual è il software che utilizzeremo? Ci sono alcuni prodotti che sono fondamentali che sono disponibili nei laboratori e quindi alcuni software sono disponibili nei laboratori e ovviamente in questo caso specifico quando dovrete fare le attività non in laboratorio ma in casa vostra dovrete installarli quindi è necessario installare Java 8 l'update 202 quindi qui trovate il link l'Eclipse ambiente integrato di sviluppo la versione di riferimento quella che c'è nei laboratori che voi utilizzerete poi in sede d'esame e la Oxygen 3A quindi qui trovate il link a cui scaricarla e poi c'è un plug-in che serve per accedere da Eclipse ai repository subversion ci sono anche altri tool che possono essere utili in particolare vi segnalo Asta OML che è uno strumento per andare a disegnare diagrammi OML possono essere utili non utilizzeremo i diagrammi OML almeno in sede d'esame ma lo utilizzeremo come strumento di modellazione o in alternativa sempre per fare i diagrammi OML Papyrus che è un plug-in di Eclipse meno facile da utilizzare rispetto ad Asta in fondo trovate il link dove ci sono elencati tutti i software di riferimento con i possibili informazioni per l'installazione e come vengono utilizzati eccoci a parlare di quello che è l'esame finale come funziona l'esame finale è una parte preponderante di programmazione 85-90% del voto finale che consiste in due fasi una parte in laboratorio in cui si scrive il codice e una seconda parte a casa in cui eventualmente si corregge e si completa c'è una seconda parte di teoria che consiste in una serie di domande a risposta chiusa l'idea è che l'esame dura due ore e non possono essere utilizzati libri appunti o altro per essere ammessi all'esame è necessario rispondere a una domanda preliminare questa domanda è fatta online e riceverete un'email con il link al questionario online in cui andare a rispondere anche questa è una domanda di autovalutazione quindi analoga a quelle che abbiamo visto prima ma decisamente più semplice normalmente avete un giorno di tempo per rispondere la domanda ovviamente conta per il voto finale nella parte di teoria e attenzione la mancata risposta a questo questionario online corrisponde a un cancellazione dalla prenotazione dell'esame e se non siete prenotati non potete sostenere l'esame a cosa serve questa domanda sostanzialmente negli anni passati molti dei vostri colleghi si sono prenotati per gli esami ma poi non si sono presentati quindi noi abbiamo bisogno di avere un'informazione precisa e puntuale di chi effettivamente sarà presente all'esame perché i laboratori e il Politecnico sono pochi e rischiamo di dover fare due, tre, quattro turni durante il giorno con problemi logistici significativi e ovviamente problemi anche per voi che dovete venire probabilmente a mattino presto o a sera tardi o in orari molto scomodi quindi questo meccanismo ci ha permesso di ridurre e avere una stima più precisa di chi effettivamente poi verrà sostenere l'esame come funziona la parte di esame di programmazione una prima fase in laboratorio voi dovrete andare a sviluppare un'applicazione utilizzando il linguaggio Java a partire da una specifica testuale con i requisiti e partendo da un codice di base quindi uno scheletro della vostra applicazione e sottomettere quella che è una versione la versione verrà sottomessa tramite un sistema di controllo delle versioni durante il programma potete ovviamente sottomettere tante versioni parziali quello che conta ovviamente è l'ultima che avete sottomesso prima della scadenza dell'esame la fase 2 della parte di programmazione invece viene svolta a casa riceverete un test o un insieme di test con gli risultati dell'esecuzione di test sul vostro programma e quindi il vostro compito a questo punto è quello di andare a correggere il programma in modo che superi tutti i test o potenzialmente non fare nulla se il vostro programma era già perfetto e superava tutti i test cosa che ovviamente vi auguro e sottomettere la versione corretta del programma normalmente con un tempo di circa 5 giorni diciamo 3-4 giorni lavorativi da quando riceverete i test cosa andiamo noi a verificare sostanzialmente andiamo a verificare che voi siete in grado di analizzare dei semplici requisiti testuali quindi capire il testo e tradurlo in codice progettare quella che è una soluzione in termini di codice quindi dato un problema capire qual è la struttura del programma che può risolverlo scrivere codice java che sia corretto e completo rispetto al design e requisiti utilizzare gli strumenti di programmazione e ovviamente soprattutto per la parte a casa capire i test come sono fatti come funzionano e interpretare il report di test per poter andare a correggere eventualmente il programma come viene valutata la parte di programmazione sostanzialmente utilizzando due criteri principali la correttezza funzionale cioè la percentuale di test che sono superati dal vostro programma quindi se ci sono 30 test e voi ne passate 25 il vostro voto indicativamente sarà 25 ovviamente i 5 test non passati o comunque la parte di test non passata può dipendere da errori più o meno gravi per questo motivo c'è una seconda componente che riguarda la quantità di lavoro aggiuntivo necessario per andare a correggere o completare se non avete svolto interamente il programma consegnato in laboratorio quindi la quantità di cambiamenti fatti tra la versione di laboratorio e la versione finale costituiscono anche un altro criterio di valutazione che ovviamente più è basso la quantità di modifiche maggiore sarà il voto che voi andrete a conseguire per quanto riguarda la parte di teoria sono domande e risposte multipla quindi andiamo a contare semplicemente le risposte corrette nelle slide ci sono tutta una serie di altri link e letture che vi permettono di andare ad approfondire le vostre conoscenze non sono strettamente necessarie l'unico che sicuramente andrete a controllare molto spesso è la documentazione Java Online che è quella che trovate a questo indirizzo ce n'è una copia in locale a cui potete accedere anche durante l'esame ovviamente gli altri sono sostanzialmente dei testi di approfondimento questi si riguardano Java ce ne sono alcuni che riguardano l'ingegneria del software in generale alcuni che riguardano il test il configuration management e la parte di design ripeto delle video lezioni il materiale che vi forniamo sono sufficienti per superare l'esame questi sono utili e possono essere un valido aiuto per andare ad approfondire quanto vediamo durante il nostro corso direi che con questo è conclusa la video lezione introduttiva noi ci vediamo lunedì mattina lunedì 9 marzo al mattino per la prima lezione virtuale collaborativa ricordatevi di compilare il questionario di autovalutazione per le vostre conoscenze del linguaggio C e di andare a iscriversi iscrivervi al workspace Slack in cui ci saranno tutte le interazioni diciamo offline aggiuntive per questo insegnamento grazie e arrivederci a lunedì grazie grazie